Ciao a tutti, benvenuti di nuovo qui sul canale. Oggi leggeremo insieme i tre messaggi dati il 26 novembre 2010 scritti nel libro della verità a Maria Divina Misericordia. Prima di iniziare a leggere questi messaggi vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, condividere questo video e mettere un mi piace e se volete lasciate anche un commento qui sotto. Per non perdervi i prossimi video potete attivare le notifiche dalla campanella così io pubblicherò il prossimo video per esempio e voi riceverete la notifica così non ne perdete neanche uno. Iniziamo a leggere il primo messaggio. Venerdì 26 novembre 2010 alle ore 3 del mattino. Mia amata figlia, presto ti sarà inviata l'assistenza di un direttore spirituale, tuttavia ricorda che io chiamo molti dei miei seguaci ma non tutti accettano. Io non posso, come tu sai, interferire contro il libero arbitrio, un dono all'umanità. Non fa niente. Ora è importante continuare con questa urgente opera così che i miei figli ascoltino e siano salvati. I segni. Non commettere errori. Il cambiamento è in atto e a breve ci saranno così tanti segni che ci saranno poche persone su questa terra che non riusciranno a notarli. I segni di cui parlo sono quelli che vengono dati attraverso i miei visionari mediante le apparizioni della mia amata e benedetta madre in Europa. Molte persone che aprono le loro menti e liberano le proprie anime intrappolate capiranno che questa comunicazione viene dai cieli. Quando i miei figli vedranno i segni miracolosi che saranno visibili attraverso il sole allora conosceranno la verità. Ignore il disprezzo, il ridicolo e l'odio che sarà mostrato quando la gente leggerà il contenuto di questo manoscritto. La stessa cosa è accaduta ai miei apostoli che con il dono dello Spirito Santo hanno composto la loro opera. Anche a te figlia mia è stato dato questo dono. Non rifiutarlo mai né metterlo in dubbio. È reale e adesso lo sai. I tuoi dubbi finalmente hanno cominciato a svanire. Ti manderò come ti ho detto aiuto. La prova di questa promessa sta ora cominciando a realizzarsi. Ti darò anche informazioni sugli eventi futuri che dovrai rivelare a tutti inclusi i miscredenti. Che cosa importa se all'inizio non vogliono credere visto che non appena gli eventi si presentano non avranno altra scelta se non riconoscere la verità? C'è un piano crudele in corso da parte delle potenze mondiali per orchestrare una guerra. L'intenzione è di ridurre la popolazione del mondo. Pregate, pregate adesso per aiutare ed evitare il livello del danno che queste persone malvagie vogliono causare sulla terra. La loro stupida alleanza con l'ingannatore fa sì che attraverso i poteri satanici che ricevono sotto la sua influenza siano determinati a portare a termine questo compito a tutti i costi. Sono in corso anche dei piani per prendere il controllo delle chiese e delle varie fedi, incluso il Vaticano. Il mio Papa, il mio amato benedetto è circondato da coloro che tramano la sua caduta. Anche altri leader del mondo, ignari dei poteri sottostanti nascosti nei loro stessi ranghi, saranno presi di mira con l'intenzione di rovesciarli. Figli miei, svegliatevi e combattete. Questa è una vera e propria guerra, diversa da qualsiasi altra guerra sia stata vista sulla terra. È una guerra contro di voi, contro ciascuno dei miei figli. Voi siete il bersaglio. Il problema è che voi non potete vedere il nemico. Vigliacchi di cuore non hanno il coraggio di rivelarsi. Ossessionati da se stessi, si incontrano in segreto all'interno della vostra comunità e sono sparsi in ogni ceto sociale. Li troverete non solo nei corridoi del vostro governo, ma nei vostri sistemi giudiziari, nelle forze di polizia, nelle comunità imprenditoriali, nei sistemi educativi e nell'esercito. Non lasciate mai che queste persone vi impongano come pregare. Prestate attenzione al modo in cui cercheranno di dirigere la vostra vita e cominciate a prepararvi ora per quello che vi attende. Prima di tutto, pregate nei gruppi. Pregate per queste persone che sono gli ardenti sostenitori di Satana. La preghiera aiuterà a evitare alcuni di questi disastri. State attenti alle atrocità che cercheranno di infliggere attraverso la vaccinazione. Non fidatevi di nessuna improvvisa iniziativa mondiale per vaccinare, la quale potrebbe sembrare compassionevole nella sua intenzione. State in guardia. Paese dopo paese, questi gruppi stanno cospirando per controllare quante più persone possibile. Non temete perché io proteggerò i miei seguaci che pregano rivolti a me. Pregate anche per quelle anime coraggiose tra voi che hanno deciso di diffondere la verità. Molte di queste persone vengono derise, ma stanno parlando, per la maggior parte, della verità. Non fate affidamento sui fornitori di prodotti alimentari. Preparatevi adesso per il futuro. Cominciate ad accumulare cibo e piantarne il vostro. Fate le provviste come se stesse arrivando una guerra. Coloro che lo faranno se la caveranno. La preghiera e la devozione rafforzeranno le vostre anime e vi salveranno dalle vie malvagie di queste persone. Non permettete mai che loro controllino la vostra mente o le vostre convinzioni attraverso la loro insistenza sull'introdurre le leggi concepite per distruggere le famiglie. Si impegneranno a dividere le famiglie incoraggiando la separazione, inclusa la promozione del divorzio, della libertà sessuale e religiosa. Essi promuoveranno l'odio tra le nazioni, uccideranno leader mondiali mediante l'assassinio e acquisiranno la libertà delle persone costringendole a fare affidamento sulla loro dittatura. L'ira di Dio sarà presto vista poiché egli non tollererà la loro malvagità ancora a lungo. A meno che queste persone che hanno scelto di seguire le loro organizzazioni di ispirazione satanica non voltino le spalle a questa malefica atrocità. Pregate per loro. State attenti alle persone per cui votate nei vostri paesi. State in guardia come vi vengono presentate dalle parole che dicono. Ascoltate coloro che stanno cercando di mettervi in guardia. Vi esorto a pregare per coloro che non lo fanno così che possano essere convertiti al fine che anche loro riescono a essere salvati. Questi eventi di cui parlo cominceranno ad accadere tra breve. Restate strettamente uniti. Tenete pronte le vostre provviste di cibo. Cercate di coltivare i vostri ortaggi e altri generi di sopravvivenza. Questa è una guerra contro di voi ma non sembrerà così. Solo state in guardia. Coloro di voi che troveranno il coraggio di tornare alla propria chiesa non devono mai essere timorosi di pregare o dimostrare apertamente la propria fede. Quanto a quelli di voi che danno la mia chiesa per scontata ebbene non la diano per scontata perché solo quando questo do questo stesso dono che rappresenta pubblicamente la vostra fede vi viene tolto che la verità finalmente si farà strada in voi e questo vi farà arrabbiare. Figlia mia di al mio popolo di non farsi prendere dal panico. Loro, i miei seguaci, saranno salvati e saranno sollevati con me nelle nuvole ad attendere il mio nuovo paradiso sulla terra. Godranno del mio nuovo paradiso e si riuniranno con i loro familiari deceduti in questa nuova vita eterna. Essi devono rimanere forti, pregare e mostrare amore gli uni per gli altri. Pregate, pregate, pregate specialmente per quelle anime sperdute e ingannate che non hanno alcuna idea di cosa comporteranno le loro azioni per il proprio futuro nella vita dell'aldilà. Pregate anche per gli altri miei figli, quelli dalle anime tiepide. Essi devono tornare sui propri passi a me e presto. Figli, per l'amore gli uni agli altri, non esitate ad avvertire queste persone riguardo alla verità. Mostrate loro attraverso l'esempio, l'importanza della preghiera, così anch'essi non si perderanno. Rimanete forti, non arrendetevi mai all'esercito dell'ingannatore, mai. Difendete ciò in cui credete, proteggete la vostra famiglia adesso, tornate indietro a me, pregate la mia divina misericordia ogni singolo giorno. Quanto ai cristiani, in ogni luogo preghino il rosario. Lasciate che mia madre vi riporti a me attraverso la sua intercessione. Figli miei, io piango per tutti voi e ho bisogno che i miei seguaci in questo momento si raccolgano in forza con me contro questo male. La preghiera è la risposta, il vostro amato Salvatore Gesù Cristo. Adesso leggiamo il secondo messaggio, sempre di venerdì 26 novembre 2010 alle ore 12. Mia amatissima figlia, oggi è un giorno in cui il mio cuore viene spezzato dai disordini e dalla profonda infelicità presente nel mondo. Guardo disperato mentre la collera degli uni contro gli altri aumenta nel mondo. Gran parte di questa tristezza nasce dalla consapevolezza che queste profezie si svolgeranno, ma una grande parte dell'umanità non se ne renderà conto. Si rifiutano ancora di riconoscere che questi eventi siano stati predetti nel libro di Giovanni. Così moltissimi ora soffriranno a causa della mancanza di fede. Pregate ora che la Russia alla fine ceda e si lasci finalmente consacrare nel nome della mia beata madre. Pregate, pregate, pregate affinché questo accada, perché sarà attraverso la preghiera che questa grande conquista sarà possibile. Se ciò accade, allora saranno salvati a milioni, poiché il pericolo è che le forze comuniste aumentino a causa del serpente e si uniscano, lasciandovi, figli miei, impotenti. Ora osservate con quale rapidità le nazioni si preparano per combattere. La velocità degli eventi mondiali sarà la causa di molta costernazione, poiché si svolgeranno in tutta la loro intensità. Miei discepoli, voi dovete ascoltare. I gruppi di preghiera saranno fondamentali per propagare la conversione e per attenuare questi disastrosi eventi. Anche quelli di voi compiaciuti della propria vita, dove tutto viene dato per scontato, non saranno più in grado di ignorare questi eventi. Ora dovete ascoltarmi e accettare che gli eventi predetti nel libro della rivelazione si stanno verificando. Congiungete le vostre mani in preghiera adesso, anche se avete solo una scintilla di affetto per me nel vostro cuore. Chiedetemi di abbracciarvi così che io possa accedere e rafforzare la vostra fede in me. Io combatterò fino in fondo per portarvi tutti più vicini al mio cuore. Sia che siate un bambino, un adolescente, un giovane adulto, un uomo di mezza età oppure un vecchio. Ai miei occhi siete tutti uguali. Voi siete la mia amata e preziosa famiglia. Ciascuno di voi, nessuno è escluso. Anche quelli di voi che non accettano che io esisto. Anche quelli di voi che lo sanno ma mi odiano. Io li amo ancora. Il mio amore è una passione che va oltre la vostra conoscenza e farò tutto quanto il mio potere per riportarvi nel mio ovile. Io non cederò la vostra anima a Satana così facilmente. Vi prego, voltatevi verso di me, non importa quanti dubbi abbiate e lasciate che io riempia il vostro cuore con il mio divino amore. Solo un pizzico di tale amore vi aiuterà a prepararvi per la vita eterna nel paradiso con me, il mio eterno padre e i vostri fratelli e le vostre sorelle. Questa è la vostra eredità, la vostra legittima eredità. Non spregate questa occasione di salvezza. Quando la vostra vita sulla terra giungerà al termine, voi avrete due scelte per l'aldilà, il cielo nel paradiso o le profondità dell'inferno con Satana, che vi porterà con lui a causa dei peccati che cerca di farvi commettere sulla terra. Aprite gli occhi adesso, ricordate che la morte sulla terra può avvenire in qualunque giorno, in qualunque momento e quando meno ve lo aspettate. Attraverso questo messaggio vi supplico di comprendere la verità prima del giorno del giudizio, ricordate sempre che io vi amo, non importa quanto tremendamente voi abbiate peccato, quando vi rivolgete a me e mi chiedete il perdono dal profondo del vostro cuore, voi sarete perdonati, anche durante il vostro ultimo respiro. Il vostro amato Salvatore, Gesù Cristo. Scusate se qualche volta mi sono un po' confusa con le parole ma mi sono corretta subito, abbiate pietà, purtroppo sono lunghi questi messaggi. Leggiamo l'ultimo messaggio sempre di venerdì 26 novembre 2010, queste alle ore 15. Mia amatissima figlia, la Santissima Trinità, si unisce a te come uno per portare avanti la verità divina ad ogni anima nel mondo, perché questa è una faccenda urgente. Tu, figlia mia, ora provi dolore e sofferenza nel tuo cuore unito al mio per l'umanità. La loro perdita di fede ti causa una profonda tristezza e un senso di paura per il loro futuro. I miei amati seguaci, leali e devoti, ora, in questo momento, si stanno unendo in tutto il mondo attraverso il vincolo del potente amore divino per combattere e salvare le anime dalla dannazione. Questi, i miei figli della luce, vengono da tutte le nazioni. Essi si riconosceranno l'un l'altro all'istante a prescindere dalla loro razza, dal colore della loro pelle o dal loro credo. Io li sto guidando così che questo esercito d'amore contribuisca a rafforzare la fede dell'umanità in questo momento della storia. Mai prima d'ora ho reso la mia presenza così evidente nel cuore dei credenti. Essi provano la sofferenza che io sopporto quando testimonio la straziante cattiveria che esala dall'uomo, anche tra quelli che voi ritenete essere gentili e premurosi. L'amore di sé sta distruggendo i miei figli. L'egoismo e la mancanza di considerazione per coloro che vi circondano e per le persone vulnerabili lascia una macchia di vergogna che è difficile da cancellare. La crudeltà che l'uomo mostra al suo prossimo, il tutto con un solo motivo in mente, l'autogratificazione, ha raggiunto il massimo storico. L'ossessione di soddisfare i propri bisogni è un peccato agli occhi del mio eterno padre. Tante false scuse fatte in nome dell'autostima sono del tutto inaccettabili e contrari ai miei insegnamenti. Amatevi gli uni gli altri. Trattate gli altri come voi stessi vorreste essere trattati. Pensate ai bisogni degli altri prima che i vostri. Lottate per i diritti umani dei vostri fratelli e sorelle quando si trovano a dover affrontare l'ingiustizia degli altri. Non giustificate mai e poi mai la punizione di una persona al fine di ottenerne un vantaggio materiale. Mostrate amore e compassione anche ai vostri nemici. Questo non è un compito facile a causa dell'insicurezza materialista che i miei figli sentono. I sintomi dell'egoistica ossessione per la ricchezza, la bellezza e il cosiddetto successo che molte persone credono essere delle caratteristiche naturali della componente umana causano una terribile confusione. L'idea che alle persone debba essere fatto il lavaggio del cervello per mettere al primo posto i loro bisogni in nome dell'autostima è stata impiantata nella psiche umana per molto tempo. Ma questa filosofia è stata rinforzata dai poteri della comunicazione moderna. Quando i miei figli sentono questi messaggi quasi ogni giorno attraverso la televisione, i media, il cinema, la musica e internet li accettano come se fossero importanti. Nonostante la falsa promessa queste convinzioni che sono affascinanti in quanto offrono l'autogratificazione che è difficile da rifiutare rappresentano la menzogna che i miei figli accettano, menzogna che è stata impiantata dall'ingannatore, Satana. L'inquietudine che provano subito dopo aver approfittato di qualcun altro è per loro difficile da capire. Loro, i miei figli, una volta raggiunto il premio desiderato non sono felici. Allora cercano ancora di più la stessa cosa, talmente insaziabile il loro appetito ma è inutile. Essi non possono soddisfare pienamente loro stessi, sono privi della vera gioia, della naturale contentezza e non capiscono il vuoto che sentono dentro. Quando mettete al primo posto voi stessi davanti agli altri, quello è egoismo. Quando traete un vantaggio ingiusto da coloro che sono più deboli e più vulnerabili di voi, commettete un peccato. Quando danneggiate la capacità di quelle persone di vivere dignitosamente e poi le private del diritto di nutrire le proprie famiglie in modo adeguato, ciò mi offende profondamente. Io soffro con quelle anime, fate un torto al vostro prossimo e lo fate a me. Quando ferite il vostro prossimo con parole di cattiveria, siate colpevoli di infliggere dolore al mio cuore. Quando l'uomo punisce un altro con la violenza, io soffro il dolore della mia passione sulla croce, la rivivo. Io sento il loro dolore mentre gli infliggete delle lesioni corporali. Quando voi commettete omicidio, siete colpevoli di l'irrivocabile oltraggio inchiodarmi sulla croce. Figli, sappiate questo, il peccato vi condurrà all'inferno. Questo è spaventoso per quei credenti che mi vedono come un giudice misericordioso. La mia promessa di misericordia infinita, che concederò a ciascuno di voi che si pente, è ancora garantita. Ma come potrò salvare coloro che non vedono l'errore nelle proprie vite confuse? Predicare la verità dei miei insegnamenti è importante e a causa del fascino di così tante abbondanti distrazioni che molti dei miei figli troveranno estremamente difficile riconoscere la parola di Dio. Molti non saranno a conoscenza degli insegnamenti di Dio per mezzo dei profeti o attraverso la Sacra Scrittura. Molti semplicemente non vogliono sapere. Altri rifiuteranno di ascoltare, anche se la parola viene diffusa attraverso i miei profeti e veggenti d'oggi, con chiari segni che tutti possono vedere. Ecco perché spetterai i credenti di pregare per gli altri. In questo momento c'è bisogno di preghiere particolari. Pregando alla divina misericordia, la potente preghiera data alla mia amata Suor Faustina, ci sarà molta conversione. Quando ciò accadrà, chiedo che tutti i miei figli si riuniscono in gruppi di preghiera per continuare a pregare e per dare una guida a questi miei figli prodighi, i vostri fratelli e le vostre sorelle. Nel mio nome e in quello della Santissima Trinità, io esorto i miei amati figli a unire le forze in unione con il mio cuore, per aiutarmi a salvare le loro anime. Io li amo tutti così tanto che piango tristi e amare lacrime di terrore per loro. Non voglio perderli. Aiutatemi, miei seguaci nella luce, a riunire queste anime perdute alla mia famiglia, così che anche esse possano vivere nel vero paradiso per il quale si battono così disperatamente. Tendetegli la vostra mano, parlate con loro, ascoltateli, mostrateli compassione, anche quando ve la rigettano in faccia con disprezzo. Mostrate pazienza oltre ogni cosa, fate sentire il mio amore per loro attraverso di voi. Essi allora faranno fatica a respingervi, anche se vi prendono in giro. Per mezzo delle vostre preghiere voi potrete riuscire a salvare le loro anime. Vi saluto, miei preziosi seguaci. Mi fate venire le lacrime agli occhi per l'amore e la devozione che dimostrate a me, alla mia benedetta madre, regina dei cieli e alla Santissima Trinità. Noi, con tutti gli angeli e i santi del cielo, ora ci rallegriamo della vostra risposta a questa chiamata. Quindi andate a svolgere il vostro lavoro nel nome del mio Eterno Padre. Riportatemi il mio gregge, il vostro devoto Salvatore, Gesù Cristo. Scusate di nuovo per qualche piccola interruzione, magari mi sono confusa con le parole o mi sono corretta subito, perché appunto i messaggi sono lunghissimi, ho la pagina divisa in due praticamente, quindi lo vedo un pochino più piccolino e mi confondo. Però mi correggo subito. Allora, i messaggi come sempre io non ve li traduco, non ve li riassumo in niente, perché sono così per come sono stati dati. Il 26 novembre sono stati dati tre messaggi del 2010, uno alle 3 del mattino, uno alle 12 del mattino, quindi mezzogiorno, e uno alle 3 del pomeriggio. Sono tre messaggi molto belli, molto importanti, dove vengono dette appunto delle cose veramente importanti, che ci avvertono di quello che sta per accadere nel mondo. Anche se sono messaggi del 2010, ricordatevi che molte profezie ancora non si sono avverate, quindi tenete sempre a mente questi messaggi, rileggeteli. Io vi potete leggere tutti i messaggi, dal primo all'ultimo. Io ovviamente vi sto facendo ogni volta che posso, perché purtroppo ho dei piccoli impegni in questo periodo, dei video dove c'è un messaggio o due messaggi, quelli che vengono dati giornalmente, così che voi li potete anche ascoltare. Poi, in questo ultimo messaggio viene nominata la preghiera alla Divina Misericordia data alla Suor Faustina Kovalska. Sarà mia premura farvi un video a parte, vi metterò anche il link, lo aggiungerò anche a questo video, appena possibile, così che voi possiate stamparla, pregare insieme. D'accordo? Quindi magari farò un video a settimana con questa preghiera o tutti i giorni, come vi piace a voi, io ve lo faccio, non ho nessun problema. Mi organizzo e ve lo faccio. Quindi vi farò anche questa preghiera che è importante, perché aiuterà molte persone alla conversione. Quindi questi sono i messaggi del 26 novembre 2010, vi invito di nuovo a leggerli e vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace e condividete questo video con più persone possibili. Soprattutto dobbiamo far leggere a più persone possibile questi messaggi per aiutarli nella conversione e nella salvezza delle loro anime. Io vi ringrazio di nuovo e al prossimo video. Che Dio vi benedica sempre, un forte abbraccio a tutti. Grazie a tutti.